Il Sansepolcro si avvicina alla quota salvezza dei 40 punti, ora lontano a due successi dopo aver regolato l'ostiamare, troppo piro ma ciocca dipendente, in trasferta con una rete per tempo. I bianconeri passano in vantaggio al tredicesimo grazie a Sorbini, il quale sfrutta la perfezione e il passaggio filtrante d'Arcaleni. I bianco-viola invece, 20 minuti dopo, colpiscono la traversa su calcio di punizione con Capitano Alfonsi. Il primo tempo non regala altre emozioni e le squadre tornano negli spogliatoi con questo parziale. Gli ostienzi ad inizio ripresa si vedono annullare il pareggio realizzato da Cardella per un fuorigioco dell'attaccante in questione. Il raddoppio Umbro è siglato dal bomber Canalini, il quale raccoglie il lancio di Tersini e non lascia scampo a Di Piero, firmando il suo tredicesimo centro stagionale. In pieno recupero anche i ragazzi di Mister Falcinelli si vedono togliere una marcatura a causa della posizione irregolare di Gorini. Il Sansepolcro al tempo stesso pone fine alla striscia positiva dell'Ostiamare, che ha terminato la contesa in 10 per l'espulsione di Piroli, che si ferma dopo 8 risultati utili consecutivi e prolunga l'astinenza da vittoria della banda Pokesci, portandola a 5 incontri. Grazie a tutti!